Ehi! Ciao! Ciao! Savamo un amore? Andiamo. Ti prendo la valigia. Ho deciso che poi andrò direttamente all'aeroporto. Ah, sì? Hai di nuovo litigato con papà. Ma perché non divorziate così? La fatta è finita. La stampa è cambiata, l'attenzione del pubblico è frammentata, discontinua. Adesso c'è troppo rumore. E perché continui a farlo? Perché sono molto brava e poi mi fa guadagnare parecchio. Sì? Sei decisamente molto brava. Sì, è vero. È davvero molto carina. Che? La ragazza alla festa. È la tua ragazza? No. 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 Voglio dire... Non ho proprio... Non ho il tempo per queste cose. Studi troppo. Dovresti anche divertirti, no? Certo. No. 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 Grazie.